Cioè dottore Levi sta dicendo che la cellulite è una malattia e che tutte le creme che ho comprate da qui a 31 anni non sono servite a nulla? No Angelica, le creme non bastano. Se vuoi dire addio alla cellulite, devi dire addio a cioccolata, fritti e caffè. Vino e superalcolici, dimenticali. E soprattutto sale. Poco sale, pochissimo e devi fare tanta ginnastica, anzi smuovi quelle chiappe. Tu lo sai che ti dico dottore? Ha ragione. Grazie. Ma non lei eh. E chi? La cellulite. Ha ragione stare con me. Poi tutto sommato sta cellulite proprio non è accia, capito? Cioè dopo sembra brutto, che dici pare brutto se la sto cacciando via, non vorrei che ci rimanesse così male, no? La cellulite, ci ha messo tanto per venire, anni di sacrificio a mangiare belle schifezze e poi che faccio? Ad un tratto non la voglio più. E no, non si fa, ma non si deve essere riconoscente eh. E niente dottore, mi sa che quest'anno ce ne andiamo in vacanza io e lei. No, non posso, è molto gentile. Ma che caglia vedo? Io e la cellulite. Io e la cellulite ce ne andiamo in vacanza. Tante care cose eh. Sarà un piacere. E' bellissimo.